ingannevole come l'amore ritorna anche questa settimana do il benvenuto a mimormiento psicologo e psicoterapeuta ben trovato ciao anche a te grazie il versetto dal quale partiamo oggi per la nostra riflessione rigenerati dalla parola dalla prima lettera a di pietro che cosa ti suggerisce questo versetto sì passo nel passo pietro parla di santità che è data da stare nella verità e nell'amore qui allude a questa frase molto bella dove dice noi siamo rigenerati dalla parola di dio ecco rigenerati come se dovessimo come se fossimo rinati da capo grazie alla parola dalla parola di dio allora qui il tema è sconfinato prendiamo soltanto qualche sottolineatura qualche spunto questa rinascita dalla parola di dio è un tema che apre a tutto diciamo la rivelazione biblica il riferimento per me più immediato è al nascita rinascita la nascita il natale il riferimento più immediato è al prologo di giovanni il capitolo 1 bene paola è famosissimo in principio era il verbo la parola il verbo è la stessa cosa ovviamente il verbo era presso dio eccetera eccetera lui era la vita la vita la luce degli uomini veniva nel mondo la luce vera gli uomini non l'hanno accolta a quanti però l'hanno accolta c'è scritto nel vangelo di giovanni ha dato il potere di diventare figli di dio dice i quali a quelli che credono nel suo nome i quali sono nati non per volere di carne non da carne non da volere di carne da volere di uomo ma da dio sono stati generati come vedi c'è di nuovo questo richiamo al fatto che si può nascere da carne da volere di uomo oppure si può nascere rinascere da dio dalla parola la parola è gesù cristo i riferimenti biblici sono infiniti facciamone qualcuno facciamone qualcuno così qualche capitolo dopo nel capitolo 3 di giovanni si parla di nicodemo dove si dice ancora che dove appunto gesù ribadisce questa questo tema chiave che se non rinasciamo dall'alto non possiamo entrare nel regno di dio e nicodemo chiede come come si può rinascere dall'alto e gesù parla di rinascere dall'acqua e dallo spirito santo e così via quindi si deve rinascere dalla parola gli dice rinascere dallo spirito santo ma anche lo spirito santo è donato da gesù cristo che è la parola potremmo dire in una chiave più esistenziale che è la parola che ci mette in comunione con l'altro e allora questa comunione con l'altro è lo spirito santo questa parola è gesù stesso che rivelazione di dio quindi dalla parola lo spirito santo e poi riferimenti sono tantissimi chi ascolta la mia parola è passato dalla morte alla vita è venuto il momento in cui chi ascolta la voce i morti udranno la voce presa in al giovanni capitolo 5 e quindi c'è una rinascita dei morti che odono la voce di gesù cristo eccetera eccetera mi piace però anche citare un passo bellissimo quello di ezechiele capitolo 37 l'hai già intuito l'hai già legato dove appunto dio parla al profeta dicendo vedi questa valle di ossa inaridite di questi cadaveri di questi morti annunzia loro profetizza cioè di la mia parola e il profeta dice la parola e arriva lo spirito come vedi collegamento sempre dalla parola lo spirito e questa parola è così potente che fa rinascere i nervi la carne fa da vita a questi corpi spenti a queste a queste ossa inaridite questi corpi si rialzano odono la voce si rialzano cioè vengono rigenerati rinascono grazie a questa parola che hanno udito qui è bellissimo tutto il passo di ezechiele 37 allora mi riconosceranno quando io aprirò i loro sepolcri sparancherò le loro tombe li riconosceranno che io sono questo è quello che dice dio cioè quando agirò con la mia parola per farvi rinascere e l'ultimo riferimento che voglio porre è la parola la voce la voce la voce è bello il cantico dei cantici che il che il libro nuziale per eccellenza nella bibbia e ancora una volta c'è una voce il mio diletto un ascolto questa voce che mi dice alzati vedi come alle come ad ezechiele le ossalide si alzano alzati che significa svegliti disorgiti risorgi ridestati alzati mia diletta e vieni amica mia mia bella vieni è ripetuto più di una volta e poi è bello che la sposa dice il mio diletto è per me e io per lui ancora una volta questo abitare l'uno nell'altro è lo spirito santo quindi questa voce e poi questa comunione dello spirito santo quindi come vedi il tema è vastissimo questo sono tante alcune citazioni alcuni riferimenti biblici ritorniamo al riferimento principale rigenerati dalla parola e anche adesso alla luce delle citazioni che hai fatto dei riferimenti che portato alla nostra attenzione come possiamo leggere questo da un punto di vista psicologico sì vedi paola questo che potrebbe essere un tema come dire quasi astratto teologico invece è di una pregnanza esistenziale fortissima non so se riusciamo a renderlo molto concreto nello spazio di questo di questo nostro incontro però proviamoci magari poi lo riprendiamo altre volte questa cosa allora noi abbiamo l'invito a rinascere dalla parola ora innanzitutto capiamo bene questo che quando intendiamo parola cioè il logos il verbo non dobbiamo banalizzare come parola semplicemente è meglio intenderla come intenzione di dio intenzione comunicata di dio quindi il logos se la parola per esempio logica è proprio della stessa radice di logos quindi il pensiero la logica l'intenzione comunicata espressa da dio quindi noi è come se abbiamo questo bivio no il prologo di giovanni ci dice possiamo o nascere da carne cioè da volere di uomo oppure possiamo rinascere da volere di dio allora o possiamo nascere da una parola di uomo o possiamo nascere da una parola di dio o possiamo nascere da una intenzione umana oppure possiamo rinascere da una intenzione divina in realtà i passaggi ci sono tre tutti noi nasciamo da una parola di gesù cristo da un'intenzione divina in principio era il verbo io se esisto è perché dio mi ha voluto in esistenza e dio che esprime la parola prima dicendomi è bello che tu esista ed è grazie a quelle bello che tu esista che io ci sono quindi c'è all'origine per tutti una benedizione fondamentale di dio quella parola che mi ha fatto diventare carne che mi ha fatto diventare persona questo è richiamato nel genesi tutti i testi della genesi prima del peccato originale dove dio ci dove è scritto che dio ci crea sua immagine e somiglianza ci fa cosa buona cosa bella bene quindi c'è questo primo passaggio che noi intanto nasciamo da dall'intenzione di dio ma e qui arriviamo a livello psicologico più più esistenziale ma in realtà noi poi nasciamo diventiamo persone tramite una mediazione delle intenzioni di mio padre di mia madre di chi si è preso cura di me nella mia vita e quindi poi io divento persona nel modo in cui cresco come io grazie alla interiorizzazione di tutte quelle parole adesso parole in senso lato si intende anche gesti comportamenti ci si intende tutta la logica tutta la intenzione che è stata espressa verso di me tutte queste intenzioni tutta l'atmosfera che ho percepito nella mia infanzia tutto ciò che mi è stato detto fatto tutti gli altri che si sono interagiti con me tutto quel mondo di intenzioni poi diventa la carne mia ok paola questo è secondo passaggio secondo passaggio ricapitoliamo il primo nasciamo dall'intenzione di dio sì questa è la base di partenza è la base da questo non possiamo prescindere perfetto la seconda secondo passaggio quindi da tutto quello che ci viene tutto quello che apprendiamo dai nostri genitori dalle persone che ci stanno accanto capito bene tutto quello fa da filtro ecco cioè alla fine poi è come se questa parola creatrice di dio diventa poi carne mia filtrata attraverso le intenzioni le relazioni le circostanze la cultura diciamo i gesti tutte le tutto quello che poi i miei genitori ma non sono i miei genitori anche i miei fratelli le persone intorno a me hanno vissuto nei miei confronti e questo è il secondo passaggio come dicevamo quello può diventare però anche la mia barella il mio lettuccio su cui io poi giaccio paralizzato perché tutte quelle intenzioni poi possono limitarmi possono in qualche modo definirmi dentro un io devo essere così io non posso essere altrimenti che questo ora è difficile appunto dirlo in poche parole tanto però spero che chi ci ascolta metta insieme i pezzi anche degli altri conti così che possa un po' anche seguire come un tutt'uno quello che stiamo dicendo e quindi il terzo passaggio è tu puoi rimanere qui cioè fermarti a queste intenzioni che ti hanno definito oppure puoi ripartire da dio quindi rinascere da dio cioè riascoltare quella voce quella parola che ti fa essere pienamente uomo e quindi non ti fa rimanere bloccato nelle ferite nei traumi nelle cose che che hai vissuto rendiamolo ancora più esistenziale altrimenti rischiamo che in qualche modo tutti noi se siamo in vita è perché siamo stati accolti da una mamma almeno da una mamma da mamma e da un papà siamo stati accolti tutti noi siamo nati grazie a un'intenzione sicuramente di un papà e di una mamma e poi di un'intenzione anche di una mamma in modo particolare di tenerci in grembo di partorirci di nutrirci di allattarci quindi c'è sicuramente all'inizio una intenzione che ci ha accolti alla vita e che ci ha qualcuno ci ha guardati con un sorriso e ci ha detto è bello che tu esisti quindi tutti quanti noi se esistiamo è perché abbiamo ricevuto un permesso di esistere cioè qualcuno ci ha fatto vedere che eravamo la gioia per ci hanno messo il fiocchetto blu o il fiocchetto rosa davanti alla porta di casa hanno fatto una grande festa e ci hanno detto è bello è bello che è nato questo bambino benvenuti benvenuto questa parola è la parola benedicente vedi benedizione tutti noi nasciamo perché interiorizziamo intanto una benedizione se non avessimo ricevuto quella benedizione fondamentale è bello che tu ci sei sei la mia gioia nessun bambino accetterebbe di vivere l'ho già citato gli esperimenti di spitz nel secondo dopoguerra sindrome da ospedalizzazione cioè se i bambini venissero allevati in gabbie come coniglio come polli si lascerebbero morire un essere umano accetta di vivere soltanto se qualcuno lo riconosce come una persona cioè interloquisce con lui come un tu come un tu non come un oggetto da allevare quindi comprendi come c'è sempre una parola che mi genera cioè c'è sempre un'intenzione che mi genera e questa intenzione grazie a dio all'inizio deve essere per forza una scintilla dell'intenzione di dio cioè come dire noi non neanche accetteremo di vivere se non ci fosse passato fin dall'inizio un permesso originario di esistere come quello di dio che dice è bello che tu ci sei e che tu sei davanti a me come un tutto presente il padre al figlio maggiore della parabola figlio tu sei sempre con me tutto ciò che è il figlio è tuo cioè è il linguaggio del non solo del padre al figlio ma anche dello sposo alla sposa cioè il mio diletto la mia diletta cioè il figlio unico oppure lo sposo la sposa cioè l'unicità del rapporto con l'altro questa cosa mi è passata dall'inizio della mia storia nel momento in cui io nasco dal rapporto che mia madre ha avuto con me ci siamo su questo a livello esistenziale io tutto questo lo prendo alla mia nascita alla mia nascita è come se questa luce mi viene passata in modo quasi naturale però capisci come dietro c'è l'intenzione di dio a cui anche mia mamma dice un sì questo però mi suggerisce anche un'altra riflessione che continuiamo a vivere perché sappiamo che c'è qualcuno che ci ama se non ci fosse nessuno ad amarci potremmo lasciarci morire giusto la cosa bella paola è che io lo spiego molto spesso nei miei corsi ciascuno di noi se non sentisse di vivere nel cuore di un'altra persona o se non sentisse che un'altra persona vive nel suo cuore sarebbe uno zombie non sarebbe una persona vivrebbe come un'automa come uno zombie io vivo perché so che dentro di me c'è già un altro che mi ha ospitato e che io ospito diciamo così che psicologicamente questo è interiorizzare la madre come prima presenza cioè proprio perché ho avuto una mamma che mi ha voluto bene e la mamma presume un papà e quindi una relazione nuziale ok in cui io sono stato accolto e ospitato proprio perché c'è qualcuno che mi ha accolto e che io posso accogliere dentro di me come vedi c'è un noi dentro di me allora io non sono mai solo è chiaro il passaggio questa questa esperienza originaria è l'esperienza che mi ha dato vita e che mi dà vita sempre ecco perché la nuzialità diventa l'apice del dell'umano perché nella nuzialità io di nuovo incontro una persona per la quale divento casa e che casa per me l'uno nell'altro cioè di nuovo si raggiunge capisce la fonte della vita cioè l'uno che abita nel cuore dell'altro l'unicità del rapporto con la benedizione fondamentale è bello che tu ci sei il tuo volto mi fa riconoscere come volto come persona come dicevamo l'altra volta a proposito del tema della vergogna ora però arriviamo almeno a un passaggio a un punto per questa per questa nostra puntata così abbiamo ancora qualche minuto sì 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 ok questa benedizione originaria questo permesso originario che comunque tutti abbiamo ricevuto almeno in parte poi facilmente si perde perché in qualche modo una mamma un papà comunque agiscono anche delle intenzioni più riduttive rispetto a quella originaria cioè ora le situazioni possono essere tante una mamma che è poco disponibile perché appunto ha ma come come può succedere abbastanza facilmente per cui non è abbastanza responsiva ai bisogni del bambino per cui un bambino può facilmente interiorizzare anche una assenza della mamma e non sempre una disponibilità o non sentirsi capito un bambino può fare l'esperienza che mamma non c'è ogni volta che io ne ho bisogno o non c'è abbastanza e allora immagina paola oppure può percepire una freddezza per esempio nel rapporto che la mamma con con lui una mancanza di empatia di sensibilità o addirittura un maltrattamento addirittura un abbandono poi non solo la mamma ma questo anche il papà anche le persone intorno qui sto parlando nei primi mesi di vita nel primo anno di vita ma poi anche nel secondo anno terzo anno immagina quante situazioni ci possono essere di disvalutazione del bambino per cui un bambino per esempio nella sua storia può sentirsi che non ha avuto il permesso di giocare non ha avuto il permesso di essere spensierato non ha avuto il permesso di esprimere le sue richieste perché magari non c'è la disponibilità per lui un bambino può non aver sentito che si può fidare pienamente dei propri genitori allora immagina queste cose cioè il sentire che non posso fidarmi il sentire che non posso esprimere le mie emozioni il sentire che più di tanto non si può oppure sentire una gelosia una rivalità da parte di qualcun altro e poi non solo nel primo anno ma nel secondo nel terzo nel quarto man mano che si cresce man mano che si interiorizzano queste intenzioni comprendi come io posso legare la percezione di me a tutte queste cose che sono diventate il mio io mi devo spiegare meglio se se mia madre o mio padre hanno avuto verso di me un atteggiamento per esempio critico o di umiliazione perché questo può succedere anche facilmente non pensate a situazioni molto traumatiche eccetera io interiorizzo tutta questa scena cioè io interiorizzo la scena in cui una mamma ha criticato fortemente aspramente un bambino la interiorizzo cioè quella quella cosa diventa me cioè io quando acquisisco la consapevolezza di me quando divento un io io interiorizzo tutto quello che è stato agito verso di me per cui io dentro di me è come se mangiassi come se assimilassi anche la critica l'amarezza il disprezzo l'umiliazione l'assenza la mancanza e io da grande sono capace di riattivare questa scena sia dalla parte di chi la agisce sia dalla parte di chi la subisce cioè sono capace alla stessa maniera di tornare a essere il bambino umiliato e disprezzato o essere quello che umilia e disprezza perché io mangio intenzioni quando dicevo l'altra volta quando io dico di me stesso io cioè a due anni due anni e mezzo quel io ha già dietro due anni di me cioè due anni in cui io ho agito delle intenzioni e le ho assorbite dentro di me quindi quando dico io dico io a partire da un vissuto da un noi da una casa interna da un concentrato di relazioni che sono diventate la mia carne quindi quando io assumo la mia carne cioè mi sento come dire proprietario del mio corpo della mia anima della mia personalità ho già una personalità che è stata viziata formata filtrata da tutti questi acciacchi per cui poi posso portarmi nella vita quelle che gli psicologi chiamano ingiunzioni o altri o trappoli o schemi autoschemi cioè quadrati in cui io mi vado a chiudere e sembra che io possa esistere soltanto se rimango dentro quel quadrato dentro quella ingiunzione come se questo sono e questo mi costringo a essere questo costringo cioè io costringo me stesso a rimanere in quel quadrato come se avessi fissato la mia identità come se dicessi ecco io sono nato da qui da queste intenzioni senza che mi rendo conto chiaramente come un percorso inconscio è quello a cui sono abituato è come se ho familiarità con quell'atmosfera per cui io mi devo sentire così mi continuo a sentire così ecco perché la fede può diventare il passaggio in cui la proposta l'annuncio di l'evangelo è ma vuoi guarire cioè vuoi rimanere in questo o vuoi rinascere da dio cioè puoi riascoltare la parola originaria che viene a guarirti cioè viene a dirti che tu non sei soltanto questo non sei soltanto l'espressione della tua storia non sei destinato a non sei soltanto non sei proprietà di tua madre non sei proprietà di tuo padre cioè non sei soltanto l'esito dei traumi che hai vissuto nella tua storia quei traumi che hai mangiato interiorizzato e per cui le parole sono diventate carne ma tu puoi ora ripartire da dio dalla parola di dio e farla diventare carne allora possiamo chiudere così questo primo nostro incontro e cioè prova a pensare parola dico lo dico a te ma lo dico a ogni persona prova a pensare le parole che ti dici che io dico a me stessa sì sì ognuno di noi ha quando va sotto stress delle parole con cui si dà del deficiente con cui si dà dell'incapace con cui si dice delle cose brutte prova a pensare alle parole che ti dici quando che dici contro di te o che dici contro gli altri o le parole che senti che quasi quasi qualcuno dice a te quando hai sbagliato qualcosa quindi solo parole negative parole negative solo parole negative quelle parole negative che ti dici quelle sono un po il concentrato di quello che sto dicendo adesso cioè di quelle intenzioni negative che tu hai fatto diventare tua carne e che cioè invece di farti vivere pienamente in modo felice da figlia di dio cioè in pienezza ti fanno ti fanno stare ridotto certo non sono solo quelle le parole quello è uno spiraglio contribuiscono contribuiscono allora prova a focalizzare le parole cioè in realtà non sono solo le parole proprio gli atteggiamenti i modi di fare che ci chiudono però un buon indicatore possono essere già le parole che mi dico prova a pensare alle parole che mi dico dentro le parole brutte le parole con cui invece di benedirmi io mi maledico quindi una volta poi pensato a queste parole che cosa devo fare sarebbe bello se invece di tenere sempre questo nastro acceso questo diciamo questo questo queste cuffie agganciate a queste parole io cominciassi a scegliere a decidere che posso non ascoltare queste parole posso abbassare il volume di queste parole e posso ascoltare la parola di dio laddove io mi do del deficiente posso ascoltare la parola che mi dice tu sei prezioso amica mia mia bella mia bella mia bella figlio mio mio bello cioè posso interiorizzare quella parola di dio non una parola proprio quella parola che mi ha colpito quella parola che è per me allora questo si può fare molto a livello psicoterapeutico la parola di dio è psicoterapeutica proprio perché si va a sostituirsi a quelle parole che tu ti dici dentro con cui ti a con cui ti induce a fallire a non riuscire a non essere adeguata a sentirti inferiore a non sentirti maschio non sentirti femmina a non sentirti degna di approvare vergogna per a sentirti in colpa per ecco invece di ripeterti nella mente tutte queste parole invece di fare diventare carne queste parole puoi scegliere di ripartire da una parola che ti benedice una parola che ti benedice questa è la parola magari posso andare a leggere anche un passo del vangelo un passo della sacra scrittura e tenerlo presente benissimo proprio questo è il passo che più mi colpisce o è anche il passo che qualcuno mi affida perché lo vede proprio adatto a me e allora è molto psicoterapeutico imparare a memoria quel versetto quella parola e ripetersela dentro scriversela ripetersela tenerla davanti presente è come se quella parola diventasse ora per me mia mamma mio papà diventa ciò che io mangio ciò che io interiorizzo e questa esperienza comune di tante persone che interiorizzando una parola la fanno esiste la sentono dentro e quella diventa la mia vita quello diventa attraverso quella parola arriva lo spirito cioè io sono in comunione con dio e questo spirito mi ridà vita come ai morti della di Ezechiele 37 si fa queste ossa aride diventano dei corpi diventi si rialzano in piedi quella parola mi dice esci dal tuo sepolcro si realizza Ezechiele 37 cioè udranno la mia voce si scopercheranno le lapidi si scopercheranno i sepolcri popolo mio risorgerà e questa e questa è l'annuncio del vangelo e l'annuncio esistenziale comprendi paola come qui noi stiamo parlando di filosofia qui stiamo parlando della differenza tra vivere una vita felice e vivere una vita da calaveri dipende che parola vuoi ascoltare se ascolti una parola che ti deprime che ti uccide che ti riduce il permesso di vivere quella parola ti riporta giù ti riporta giù ti riporta a ossa aride invece tu hai la possibilità di riascoltare quella parola originaria in principio era il verbo e di ripartire dato il potere di diventare figli di dio gesù la parola ci dà il potere di ritornare a essere figli di dio di rinascere da capo di essere rigenerati da lui ecco perché rigenerati dalla parola allora abbiamo dato anche dei compiti a casa i nostri amici che ci seguono nella una psicoterapia possiamo definirla così la parola di dio che è psicoterapeutica e questo è importante allora grazie a mimormiente appuntamento alla prossima settimana e grazie a tutti quanti voi per averci seguito grazie 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 Grazie